Ben ritrovati amici telespettatori. La notizia non è freschissima della scorsa settimana ma purtroppo è esplosa insieme ad altre notizie e con uguale importanza ci ha costretto a fare una scelta. Però rimane anche per le prospettive future che lascia aperta una notizia su cui riflettere. Stiamo parlando della decisione della Corte europea che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio nel cosiddetto vecchio continente. Cominciamo con le prime pagine dei quotidiani del 22 dicembre scorso e cominciamo con il Corriere della Sera che in prima pagina in taglio medio ha titolato La Corte europea apre alla Superlega, il calcio sotto sciocchi, il caso FIFA e UEFA contrarie, club in subbuglio. Leggiamo cosa è riportato in prima pagina come sintesi con una sentenza rivoluzionaria la Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito un abuso di posizione dominante il ruolo di UEFA e FIFA le cui regole sull'approvazione preventiva delle competizioni internazionali per squadre di calcio sono illegali perché violano il diritto comunitario. E' stato dunque accolto il ricorso presentato dall'European Super League Company il 27 maggio di due anni fa quindi una notizia che ha avuto un lungo periodo di gestazione potremmo dire. Secondo la sentenza FIFA e UEFA non possono imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative a quelle organizzate da loro un terremoto per il calcio. E' prima pagina ancora per il quotidiano cattolico avvenire. Come vedete tutti mettono questa notizia in grande evidenza o meglio la mettevano nel giorno del 22 dicembre scorso. In questo caso abbiamo una fotonotizia con un titolo anche in questo caso in taglio medio la Corte Europea liberalizza il calcio. Superlega FIFA e UEFA posizione dominante. FIFA e UEFA stanno abusando di una posizione dominante e la loro natura arbitraria le loro norme devono essere ritenute valide restrizioni ingiustificate alla libera prestazione dei servizi. Con queste parole la Corte di Giustizia europea riconoscendo le ragioni di European Super League Company ieri, quindi la notizia è di giovedì 21 dicembre, ha di fatto aperto una nuova era per il governo del calcio e quello dell'intero sport europeo basato sinora sul modello delle federazioni internazionali come organizzatrici e regolatrici dei vari tornei. Nella fotonotizia abbiamo Erling Haaland che celebra la vittoria dell'ultima Champions League da parte del Manchester City. Ancora un'altra prima pagina, quella del quotidiano, il giornale che anche in questo caso in taglio medio-alto potremmo dire titola, calcio shock, cambia tutto, nell'occhiello storica sentenza anti-monopolio, ok alla Superlega, FIFA e UEFA sconfitte, si rischia il caos. Brevissimo l'incipit in prima pagina, parlando di calcio l'istinto è quello di tifare anche ora che a fronteggiarsi sono manager, presidenti e gruppi di interesse. E concludiamo con il quotidiano La Repubblica, anche in questo caso c'è una sorta di fotonotizia che ritroviamo in taglio medio-alto. La fotonotizia viene illustrata con una didascalia, la Coppa, il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League e poi troviamo il titolo in taglio basso, rivoluzione calcio, sia la Superlega basta monopolio UEFA e anche in questo caso c'è un incipit pieno di interrogativi e adesso cosa succede adesso? La sentenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul caso Superlega promette o minaccia, a seconda dei punti di vista, di stravolgere ancora il mondo del calcio. Se è la minaccia di una rivoluzione permanente o il fuoco fatuo di una sommossa destinata ad essere nuovamente ripresa dall'istituzione è presto per dirlo. Questo è dunque un po' quello che abbiamo trovato sulle prime pagine dei quotidiani nello scorso 22 dicembre. Ma noi dobbiamo cercare di capire non soltanto quello che succederà perché abbiamo visto come molti sono gli interrogativi che questa sentenza apre, molti sono gli scenari, molte sono le ipotesi possibili, ma dobbiamo anche cercare di capire da dove nasce questo progetto che è sfociato nella sentenza. Un progetto che parte da un ricorso presentato addirittura due anni fa. Per capire meglio quello che è successo e che sta succedendo siamo collegati con Raffaele Mignano, giornalista sportivo. Benvenuto fra noi. Buongiorno e buon pomeriggio a voi e grazie dell'ospitalità. Allora facciamo anzitutto un passo indietro, o meglio volgiamo lo sguardo verso il nostro passato, verso l'inizio di questa vicenda. Allora perché è stato presentato questo ricorso che ovviamente pochi giorni fa è sfociato in quella sentenza di cui abbiamo parlato e con quali obiettivi? Ma diciamo che questa nuova situazione affonda le radici a quel 19 aprile del 2021 quando fu presentato ufficialmente un progetto di Superlega da parte dell'allora presidente della Juventus Agnelli e che vedeva d'accordo e quindi in collaborazione con due grandi club spagnoli come il Real Madrid e il Barcellona. Una situazione che di fatto si anteponeva a quello che erano comunque i canoni dell'organizzazione del calcio in Europa da parte della UEFA e della FIFA e che evidentemente metteva di fronte a un bivio dei club per quanto riguarda la partecipazione ad eventi extra UEFA, extra FIFA. Chiaramente il comune denominatore di tutta questa situazione di quella diciamo tra virgolette ormai un po' accantonata della Superlega del 2021 e di questa svolta epocale grazie a questa sentenza della Corte di Giustizia europea ha un denominatore comune che è quello del business del calcio. Vale a dire il calcio oggi più che uno sport è diventata una vera e propria azienda e quindi coinvoyerà laddove ci saranno per far capire al nostro pubblico più soldi evidentemente i club per proporre questo tipo di spettacolo, di sport, di iniziativa insomma di competizione. Non è facile, siamo appena agli albori di questa situazione che è destinata a far discutere. Di fatto una cosa è sicura che il 21 dicembre scorso la Corte di Giustizia sportiva ha decretato una sentenza che cambia totalmente il volto del calcio mondiale. Quindi per capire se le cose rimangono così come le ha cristallizzate la Corte di Giustizia europea, i club, diciamo i più blasonati, che quindi dovrebbero essere i più corteggiati, sarebbero costretti ad una scelta fra il campionato interno casalingo o meglio nazionale e quel campionato della Superlega oppure ci potrebbe essere una compatibilità fra le due cose? No, diciamo che la compatibilità di fondo ci sarà, potrebbe esserci, ripeto, siamo ancora agli albori, tanto è vero che come tu sai è già stato prospettato una sorta di format per questa nuova Superpega con 64 squadre divise in tre leghe e per quanto riguarda un po' il tipo di manifestazione che deve essere. Il problema è che adesso ora sarà tipo liberi tutti, cioè vale a dire qualsiasi organizzazione che non sia FIFA, che non sia UEFA, sarà libera di organizzare tornei internazionali e darà la possibilità ai club di partecipare ad altri tornei appunto non per la UEFA. A tal proposito mi permetto, Stefano, di dire che al netto delle prime pagine viste in apertura di trasmissione, l'argomento rimane di strettissima attualità, tant'è vero che proprio oggi c'è stato praticamente un comunicato della Federcalcio italiana che praticamente di fatto ha chiesto ai club italiani di aggiungere una postilla alla prossima iscrizione ai campionati impegnandosi con una pecca a non partecipare a competizioni diverse da quelle organizzate da FIFA, UEFA e appunto Federcalcio. E non mi pare poco perché pena potrebbe essere l'esclusione dal campionato. Non mi pare poco in questo momento. Quindi sul tavolo il dibattito è certamente aperto e di grandissima attualità. Ecco, quindi quello che è appena emerso fa capire che la sentenza è un punto di partenza e non un punto di arrivo, ma al di là degli aspetti legati alle reazioni sul terreno contrattuale, questa sentenza è inappellabile, cioè è definitiva sotto il profilo strettamente giuridico? Beh no, evidentemente ci saranno e sono così, ci saranno sicuramente dei ricorsi da parte appunto dei massimi rappresentanti dei vertici sia della FIFA e della UEFA perché evidentemente non solo non vorranno perdere, per usare un termine calcistico, la partita sotto questo fronte, ma evidentemente anche perché qui parliamo di un indotto economico veramente notevole e quindi diciamo che a quel punto potrebbero esserci delle ricadute incredibili sotto il profilo appunto per quanto riguarda finanziario, ma anche sotto il profilo dell'immagine. D'altra parte sono situazioni che si stanno comunque, come dire, in qualche modo mettendo in pratica da tempo, come ben ricorderete in principio furono gli Stati Uniti tantissimi anni fa a proporre un modo di calcio diverso, poi venne il momento della Cina, adesso è il momento degli Arabi come ben sapete e adesso questa Superlega, quindi è un continuo movimento in evoluzione che stravolge e cambia letteralmente il volto di questo sport che è uno tra i più amati a livello mondiale. Continueremo ad approfondire quelli che potrebbero essere gli effetti della sentenza della Corte europea sul calcio mondiale fra pochissimi istanti, prima una breve pausa pubblicitaria. Siamo ancora collegati con Raffaele Mignano, giornalista sportivo, con il quale stiamo commentando la sentenza del 21 dicembre scorso della Corte di Giustizia europea con la quale è stato eliminato il diritto assoluto di FIFA e UEFA di organizzare in regime di monopolio, possiamo dire così, i campionati di calcio. Il Quotidiano della Repubblica ha raccolto a pagina 35 in poche battute alcune autorevoli opinioni. Cominciamo con quella del presidente della UEFA, Alexander Ceferin. La Superlega non ha avuto luce verde, è un'opportunità per cambiare, ma il calcio è tutto con noi. Giovanni Malagò, presidente del CONI. Non commento le sentenze, ma con la Superlega il rischio è che lo scudetto diventi marginale. Ancora Andrea Abbodi, ministro dello Sport. Importante è che ci sia la tutela dei campionati. Il 10 gennaio incontro tra i paesi dell'Unione europea. Gianni Infantino, presidente della FIFA. La sentenza non cambia nulla, continueremo a organizzare i tornei più spettacolari. E infine Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Un grande giorno per lo sport. Il calcio europeo dei club non è e non sarà mai più un monopolio. Come vedete abbiamo tutte posizioni contrarie a quello scenario della Superlega di cui abbiamo parlato nella prima parte, tranne la posizione del presidente del Real Madrid che evidentemente fa pandan, si abbina molto bene alla posizione espressa a suo tempo da Gianni Agnelli per quanto riguarda la sua Juventus. Quindi questo scenario che si apre è uno scenario che premierebbe le squadre più in, le più blasonate, le più conosciute a livello internazionale? Evidentemente sì. Comunque sicuramente è una sentenza che sta facendo discutere e farà ancora discutere molto nel corso del tempo. Perché come si evince anche dalle dichiarazioni dei rappresentanti di FIFA, UEFA e anche del nostro governo, sia sportivo che istituzionale, evidentemente diciamo che c'è qualcosa che ancora non torna dopo questa sentenza. Ora, al netto delle situazioni proprio di contrapposizione, è evidente che Ceferin anziché Infantino siano comunque in qualche modo su tutte le furie, perché evidentemente c'è all'orizzonte questo nuovo format. Direi che la pacatezza del ministro Abodi, che in uno slang dice che questa sentenza superlega deve essere colta come un'opportunità per migliorare quello che c'è, fa ben riflettere e fa ben sperare. Come tutte le cose all'inizio, se ricordate anche all'epoca della sentenza Bosman, sembrava una situazione veramente di rottura, una situazione inverosimile, eppure da quel momento, con quella sentenza Bosman, il calcio cambiò per quanto riguarda la libera circolazione dei calciatori in tutta Europa. Quindi, come tutte le cose all'inizio, ai suoi pro, ai suoi contro, per il momento ci sono tantissimi no a livello internazionale, qualche nì, sì uno o due per il momento, però credo che le cose siano destinate comunque a mutare nel corso degli anni, perché non credo che sia una cosa fattibile a livello immediato o verosimilmente immediato. Anche perché, come dicevamo prima, sono in atto tutta una serie di movimenti per cercare di ciascuno di ottenere il soddisfacimento dei propri interessi e per fare in modo che questa sentenza abbia meno contraccolpi possibili. Per esempio, il ministro Abodi annunciava per il 10 gennaio questo incontro tra i paesi dell'Unione Europea. Ma il problema è strettamente legato agli ambiti finanziari dei detentori delle maggiori quote delle società calcistiche o anche la politica, visto che c'è questo incontro annunciato dal ministro che certamente avrà un ambito di riferimento diverso da quello economico. Cioè, anche la politica può dire la sua? Certamente sì, però vedi, anche se tutto questo sta generando discussione, aprendo dei tavoli di discussione, diciamo che se andiamo a leggere nel dettaglio la sentenza capiremo che il tema non è interrogarsi se la Superlega avrà o meno successo. Ma diciamo, perché questo? Perché d'ora in avanti il mercato del calcio sarà liberalizzato e quindi chiunque nel mondo può creare un progetto e farselo finanziare senza la minaccia di UEFA e FIFA nei confronti dei club interessati al progetto. Ad esempio, nulla vieta che al Fondo Arabo dell'Arabia Saudita di proporre una competizione mondiale per club alternativa a quella della FIFA che attualmente ha un valore stimato intorno ai 10 miliardi. Il tema dell'affiliazione è un po' più tecnico, ma diciamo che il potere dei club a questo punto cresce perché saranno liberi appunto di affiliarsi evidentemente ad altri tipi di federazioni che non siano quelle già istituzionali. La UEFA, mi permetto di aggiungere, non vorrei annoiarvi con le mie cose, si sta attrezzando in questo senso, evidentemente aveva avuto già sentore prima della sentenza della Corte di Giustizia Europea e quindi già per quanto riguarda la Champions League anziché l'Europa League e quindi la Conference League aveva già pensato al netto di questo anno per la prossima stagione di aumentare il numero di squadre portandole da 32 a 36 e chiaramente richiamando all'interno della competizione di Champions League come ben sapete 5 squadre italiane anziché 4 sempre per la prossima stagione e chiaramente la FIFA si sta organizzando per un mondiale per club che ci sarà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti appena qualche giorno fa tra parentesi lo ha vinto il Manchester City contro il Flamengo e saranno presenti due squadre italiane, l'Inter sicuramente e una tra Juventus e Napoli a seconda della posizione del ranking internazionale che andranno ad occupare al termine di questa stagione quindi lo scenario è completamente aperto e diciamo che sempre per usare un termine calcistico la partita è aperta Ecco mi pare di cogliere tutto sommato che la tua opinione da giornalista sportivo di lungo corso è abbastanza favorevole agli scenari che si possono aprire anche perché non c'è solo il tema diciamo teorico di una liberalizzazione che diciamo darebbe meno vincoli e più libertà ai club ma si produrrebbe anche una sorta di meccanismo meritocratico per cui i club migliori di ogni nazione potrebbero avere una sorta di visibilità ancora maggiore a livello mondiale, è così? Diciamo che più che altro, più che essere favorevole diciamo che è una visione un po' in prospettiva perché almeno per quanto possa dire credo che questa Superlega nel tempo adesso è ancora in una fase molto embrionale credo che potrebbe vedere la luce perché? Perché il calcio è completamente cambiato l'azienda calcio in questo momento deve fare i conti appunto con dei bilanci in rosso che sono sfavorevoli ai club e quindi andranno incontro a chi gli darà più soldi quindi più visibilità quindi una questione proprio di immagine anche finanziaria tenendo presente che ci sono tanti altri fattori e teniamo presente sempre perché tu direttore sei sempre sul pezzo proprio oggi ad esempio il decreto crescita praticamente ha stabilito che dal primo gennaio del 2024 non ci saranno più agevolazioni per i calciatori stranieri che verranno in Italia agevolazioni fiscali per i calciatori stranieri che verranno in Italia e anche qui poi entra in gioco tutta una serie di situazioni diciamo così politiche, finanziarie e quindi il futuro del calcio in Italia di questo calcio italiano che evidentemente soffre ancora ha sofferto a livello nazionale soffre a livello internazionale come ben sapete Un'ultima domanda per la quale ti chiediamo di toglierti la giacca e la cravatta del giornalista sportivo e metterti nei panni del pantofolaio medio italiano che segue il calcio dalla tv se passa questo progetto della Superlega per lo sportivo medio, per l'utente, per l'appassionato casalingo del calcio cosa cambierebbe? cambierebbe qualcosa di particolare nel senso che non solo potrebbe partite almeno sulla carta altamente spettacolari tra i migliori club diciamo così internazionali ma c'è un particolare che nella piattaforma almeno questa qui presentata dalla A22 appunto quindi gli ideatori di Superlega praticamente tutte le gare sarebbero trasmesse gratis le partite di tutte le squadre attraverso una piattaforma Unify e quindi non sarebbe poco rispetto al fatto che evidentemente oggi per assistere all'evento calcio in tv ci sono delle altre piattaforme che comunque hanno più o meno dei costi anche questo è un altro viatico per far sì che la gente il Pantofai o comunque lo sportivo comune come dire si avvicini di più a questo progetto Superlega direi che fondamentalmente potrebbe essere in qualche modo una nuova pagina per questo calcio che soffre a dispetto di quello che si vede e di un calcio che potrebbe vivere più di risultati di spettacolo per quanto riguarda appunto chi lo guarda e magari di avere più disponibilità finanziaria ed economica per chi invece lo produce Bene, tutto sommato ci sembra di capire che non tutto quello che è stato dipinto in termini negativi dai commenti che hanno seguito la notizia della sentenza della Corte Europea diciamo sono giustificati e quindi è stato utile approfondire è stato utile cercare di capire meglio fra le pieghe della notizia e fra le pieghe dei commenti e ringraziamo per questo Raffaele Mignano giornalista sportivo che con grande professionalità e con parole anche abbastanza semplici per rendersi comprensibile al pubblico più variegato ci ha aiutato a capire non soltanto quello che è stato quello che ha preceduto la sentenza il movimento che è in atto sotterraneo più o meno sotterraneo perché tutto alla fine si sa è quello che potrebbe essere lo scenario futuro o gli scenari futuri che si potrebbero aprire a partire da quella data storica che è diventata di fatto storica del 21 dicembre 2023 grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie a tutti